Noi dobbiamo registrare delle fatture di acquisto, quindi guardate in fatture fornitori. Il totale della fattura è 12.200, aliquota 22%. Entrate dove c'è il pulsante verde manuale e successivamente inserite i dati a piacere della fattura. Mi raccomando, la data è in forma sintetica, due numeri per il giorno, due per il mese e due per l'anno. Dopo ciò, dove dice il totale documento mettiamo 12.200 e poi successivamente scegliamo la liquida, 22%. Confermate e vedete che in automatico c'è lo scopolo dell'IVA. Grazie.